Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della skyblock infinity quest'oggi vi porterò insieme a me ad esplorare la cava la cava perché è da molti episodi in realtà che abbiamo costruito mob spawner e grazie alla cobblestone che ho preso per fare il mob spawner ho scoperto uno spawner è per questo che mi sto dirigendo in quella direzione con il mio bel piccone super veloce andremo a rispondere insieme questo questa zona questo questo spawner anche perché è uno spawner particolare e non ho avuto modo di esplorarlo ora capirete perché tra l'altro i creatori della mappa mi hanno risposto sotto un commento di un video riguardo la questione del nether e mi ha detto su riguarda purtroppo non c'è la bedrock nel nether quindi non puoi sconfiggere il wither in quel modo però quello che puoi fare è costruire un portale del nether qui perchè costruendo un portale del nether qui ti porta nel nether normale quindi grazie al consiglio dei creatori della mappa riusciremo a sconfiggere anche il wither senza problemi anche perché ti mettiamo a sapere dove farlo spawner potenzialmente avrei dovuto farlo spawner qui ma perché rovinare tutto allora ecco vedete già c'è della gente io purtroppo ho fatto un errore non mi sono portato dietro una spada nuova però non è un problema e vi dirò perché non è un problema perché qua c'è una crafting table io ho del legno e ho anche della cobblestone che se faccio così indovinate un po' ho della cobblestone facciamoci un paio di stichettini così ci portiamo a casa una spada nuova che so già che utilizzeremo prendiamoci giusto un altro po di cobblestone allora scavando mi sono ritrovato ma sai che forse l'endeper ci servono non è una cosa molto sensata ma lo farò comunque abbiamo una piccola zona anti enderman e lo colpiamo così possiamo ucciderlo e sperare che ci dia delle enderpearl dammi un enderpearl nessuna enderpearl vabbè ci abbiamo provato quello l'importante comunque sì Questo è uno spawner ma uno spawner molto particolare perché guardate dentro cosa c'è è uno spawner di creeper e c'è ancora della cobblestone là dentro l'ultima volta che sono venuto allora ti dirò la verità ho un po paura e non so come affrontare questa cosa perché non esiste in minecraft normale uno spawner creeper dicevo non esiste in minecraft normale uno spawner di creeper proprio non esiste è illegale per un semplice motivo pensateci appena spona un creeper ed esplode è finita lì finito lì il divertimento finito di tutto come 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 affrontare questo spawner bella domanda bella domanda di sicuro devo illuminarlo il più possibile Facciamoci altre torce perché sicuramente ci serviranno e useremo queste torce per illuminare sia lo spawner in sé perché non vogliamo troppo troppa possibilità di spawn per i nostri amighetti ma anche la galleria qua a fianco perché giustamente orca vacca Giustamente i creeper possono spawnare ovunque non è che c'è ovunque entro un'area 9 per 9 dallo spawner quindi bisogna stare attenti guarda quanti creeper ci sono ora potrebbe essere comoda questa cosa Se avessi una missione che mi chiedesse della gunpowder o qualcosa del genere ma purtroppo non c'è una missione del genere oppure Anzi c'è ma l'ho diciamo l'ho terminata con il mom spawner il problema è che se io continuo E vabbè nooo nooo E' esploso tutto Qua c'è un'altra cesta però porca vacca ha esploso tutto non morire non mi morire Quanta gente Prendi la roba e sono morto ho preso un po' di roba almeno una pozione waterbreeding E' schere mi serviva se non sbaglio da consegnare una pozione waterbreeding Allora stiamo calmini Torniamo lì subito subito Purtroppo cacchio è esploso il creeper ecco questo è il motivo per cui non esistono in minecraft vanilla gli spawner di creeper Perché sono insostenibili Ora perché in questo episodio voglio esplorare quella zona però non solo perché ci sono altre due ceste da esplorare e non ho preso tutto il materiale Che c'era all'interno della prima cesta ma anche perché mi avete detto che c'è anche uno spawner di scheletri ghiacciati Che non so cosa voglia dire Perché i scheletri ci sono scheletri normali di Wither Skeleton Cioè non conosco altri tipi di scheletri Quindi sono curioso di sapere anche cosa intendiate per cose ghiacciate Allora però tutti gli stanno poco calmo perché non è possibile che mo' tu arrivi e fai cose Eh, mani un po' mani un po' questo era Whatsapp Voleva salutarvi Ammazziamo tutti Ok Qua vedo delle particelle strane Perché sono queste particelle? Cosa c'è qua sotto? Ah no, è la torcia Si la torcia, la freccia che era strana Ok Allora cosa abbiamo ottenuto? Altre pozioni dell'esperienza? Si direbbe di sì Bottle of Enchanting buttiamoci al po' di cattiveria Qua dentro altre bottle of Enchanting Altra gampata che non mi serve E un'altra posizione del water breathing Che secondo me, vi dirò la verità Mi servirà per l'altro, diciamo, bottone della morte che ci porta al super lago Lì sicuramente dovrò svolgere le emissioni per ottenere i pesci Perché ho alcune emissioni che mi chiamano dei pesci E anche dovrò esplodare quella quella zona lì sotto subacquea Se ci sarà qualcosa di utile immagino Anzi, per forza Ora qua dentro un fiorellino Non ne vedo il motivo Una name tag, una mela Vabbè, ti dirò Non male Mi piacere più però prendere tutto il resto Carbone, prendiamolo perché vi ricordo abbiamo bisogno di uno stack di carbone Per completare una delle missioni che abbiamo iniziato nello scorso episodio Ehm, tra l'altro Avevo detto che avrei ammazzato un po' di Wither Ne ho uccisi un po' Tra l'altro, mamma mia, un fail assurdo Ho ucciso un Wither Scalto, mi ha dato la testa Proprio, l'ho vista ed è caduta nel vuoto Perché la piattaforma non era ancora abbastanza elaborata E ancora non lo è Infatti devo fare delle modifiche Va bene Allora, proviamo a proseguire di qua Anche se è pieno come non so cosa di mob Allora, stiamo attenti e ammazziamo tutti Tanto ho le frecce e non ho paura di Ma porca puttazza Ci metto 12 anni ogni volta a tornare Che cacchio Allora, svuotiamo l'inventario già che siamo qui Allora, qua ho due pozioni che al momento non ci servono Questa che pozione è? Splash potion of weakness Non mi interessa Facciamo il super viaggio della morte Ogni volta a 12 anni per arrivare a questo bottoncino Dicevo, purtroppo la piattaforma del WIDE Che ho usato per formare WIDE Skyton Non è ancora abbastanza sviluppata E quindi proprio mi è capitata la testa lì davanti E l'ho persa totalmente Proprio l'ho vista cadere nel vuoto e ho detto Non sono stato abbastanza reattivo Altrimenti avrei potuto fare una cosa Buttarmi insieme alla testa Prenderla e sfruttare il fatto del keep inventory Che se prendevo la testa in volo Non avrei avuto problemi Perché poi sarei morto, sì Ma sarei nato con la testa in inventario Che quindi sarebbe stata una figata pazzesca tra l'altro Una roba tipo Mission Impossible Ad ogni modo ammazziamo tutto Tra l'altro raga l'altro giorno Non l'avevo ancora visto Ma ho visto John Wick 2 Il primo mi è piaciuto un botto Anche il secondo è stato davvero bello Anche perché una parte è ambientata a Roma Molto bello Poi mi piace sempre questa roba delle organizzazioni segrete L'hotel continental Di qua di là insomma Molto bello mi piace Diciamo che è nel mio genere Non è l'unica cosa che guardo come genere Però è nel mio genere Ed è molto tipo Mission Impossible proprio cazzuto Quanta gente E quest'anno dovrebbe uscire il 3 Finalmente Cioè finalmente ho visto l'altro ieri il 2 Però porca vacca Ma posso morire ogni due secondi Allora prendiamo un po' di armatura per favore Che armature di Mark? Buttalo E' di pelle non serve a nulla Prendiamo quella d'oro Anche se finisce subito Uno, due, tre Ho dei Leggings Ho dei Leggings Certo è tutto mezzo rotto Però meglio di niente Andiamo E quest'anno dovrebbe uscire il 3 Tra l'altro Sempre parlando di film Sono andato a vedere Glass Mr. Glass al cinema Carino Nel senso Molto Meno Action Di quanto me lo immaginavo Però l'attore Che quello la di Split Ma vabbè Cioè io non capisco come lo abbia ancora fatto a vincere un Oscar Perché Fare quello che ha fatto Soprattutto In Glass E' difficilissimo Ora Spero di non spoderare niente Ma se avete visto Ma basta guardare un trailer Per capire questa roba Comunque Ci sono delle scene In cui passa da personalità a personalità E si fa tipo Dieci personalità di fila Cioè è un maestro Cioè Attore della vita Proprio un grande Cioè andrei al cinema A riguardarmi il film Solo per la sua performance Poi ovviamente c'è Samuel Jackson C'è Bruce Willis Però sinceramente Quello che ho preferito di più Quello di Split Ma perché Cioè a livello attoriale Porca che gli dici Cioè un grande Un grande Allora Detto questo Riusciamo ad uccidere tutti Senza morire Ogni 3 secondi Per favore Quanta gente ci sta là in fondo Mortacci vostro Vabbè non è che puoi colpirmi ogni volta Io perdo armatura però Riempiamo di torce Mangiamo del meloni Così recuperiamo un attimo la vita Mi sembra già un ottimo inizio Stiamo calmi per favore Stiamo Calmi Altre torce Ma quanta gente c'è? No però così eh Quanti creeper ci sono? Io tanto lo so che sto per finire Le frecce eh Ridi ridi Ma qua alla fine Quante frecce ho? 20 Meio di nulla Eccala Altra gente Muori Non mi colpire Quell'arco raga è incantato Ma peggio del mio Può uccidere lui prima Ok Recupera vita Con ste fette di melone che c'ho mezzo cuore Mi sputano addosso e muoio E dai recupera Si c'ha la stamina di un criceto Il melone Dai Se avessi mangiato una bella bistecca Sarei già metà vita Che cacchio Ora molto lento a recuperare Ma ce la possiamo fare signori E ma 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 quanta gente c'è Quanta Portami del cibo serio Non sarebbe una brutta idea Vi posso dire questo Ammazziamo 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 Boom Boom Muori Ok Ok Dovrei farmi altre torce Posso fare Facciamoci altre torce signori Perché le torce sono la cosa più importante In questo momento Potrei illuminare la strada Capire dove sto andando Potrebbe essere la soluzione alla morte Uh ferro Mi serve Vi ricordo che devo creare una anvil Un blocco di ferro C'ho bisogno di un botto di ferro Avere un botto di ferro Prendi tutto Vai così Voilà Ora Torniamo su Di qua c'era un creeper L'ho visto Altro scheletro Non mi colpire Non mi colpire Non Finito le frecce Finito le frecce Nooo Male Via qua bello Ti sento Morto Dammi delle frecce Grazie Cosa c'è qua Altra gente E' uno scheletro quello Mi sembra uno scheletro Mi sembra uno scheletro Eh non ho più frecce Cazzo sparo Nasconditi E che cacchio Salta e nasconditi Non ci vuole molto Sei proprio un geno del male Te lo posso dire Porca vacca Dai su Eccala che arriva No No Non mi colpire Quanta vita c'ha Ok Ho una freccia E non ho paura di usarla Questo è l'importante Ma soprattutto Dov'è sto cacchio di Eh vabbè Ma quanti scheletri ci sono Però Esplodi 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 E che cacchio vai esplodi Via qua bello Porca vacca esploso sul serio Almeno mi hai ucciso lo scheletro Me lo auguro No è ancora lì Ancora lì Ok Stiamo calmi Carbone ci serve il carbone Per fare le torce Per fare la missione Tutto ci serve Priglia piglia tutto Il bello è che non ho potuto neanche farmi un piccone di ferro Perché altrimenti poi finisco il ferro Non posso fare le missioni senza ferro Che senso a prendere il ferro se non può fare le missioni Sto prendendo troppo in questo video ragazzi Non so perché Sarà la red bull Mangia il melone Mangia il melone Recupera la vita Siamo tutti contenti Se tu mangi il melone Recuperi la vita Due cose devi fare Mangiare e recuperare Non è che ci vuole molto Ci vuole di sicuro Non ci vuole una laurea Per fare questo Quindi stai calmo E comportati bene Allora Stiamo calmini Pega un po' di meno slice C'è questo bebistello che vuole in giro Mi sta dando sui nervi Mamma mia Andiamo Andiamo Ma che capelli c'ho Mamma mia E' ancora lì E' ancora lì Giustamente perché dovrebbe despawnare Ora mi mancano tre cuori Io direi aspettiamo che questi tre cuori si rigenerino Perché altrimenti Due colpi di freccia e muoio E non ha senso Interessante aggrarlo Ok E farlo venire verso di me No Brutta Brutta roba Brutta Roba Ok Finisce qua? Ma no Ok di qua Sembra esserci una Una via Ma dove cacchio son finito? Porca vacca Va bene Stiamo calmi Vieni qua bello Vai vai Vieni qua C'è del ferro Ottimo Come piace a me C'è anche un ragno qua sopra se è per quello Stiamo Non esplodere mica eh Non osare Riusciamo ad ammazzare sto ragno magari Grazie Alleluia Come ha fatto ha compito Nooo lo scheletro no Però lo vedi che sei infame Minecraft Non puoi mettermi lo scheletro ogni tre per due Che non sai che non c'ho armi Sono qui nudo Mi metti lo scheletro Poi infamello Quante frecce ho? Tre Se le becco mortacci tua Se le becco tutte e tre Ecco le ho beccate due È morto? È morto È morto È morto Vediamo il ferro E stiamo attenti perché ci stiamo cacciando un grosso pericolo secondo me qua dentro Più scendiamo più Più è brutta la situa io ve lo dico Così prendiamo boia quanto ferro Quanto ferro ho nell'inventario Quattordici Meglio di nulla Mangia il melone recupera la vita Cliccola la situa è grave Non c'è niente? Non c'è assolutamente niente Ottimo È finito? No aspetta non è finito Forse devo salire Le strade che abbiamo incontrato Non sono al massimo Ho solo desiderato di morire più e più volte Vedi qua? Orca vacca si scende ancora Stiamo calmi C'è della lava Un botto di pipistrelle Perché così tanti pipistrelli? Bella domanda Nulla finisce qua Vabbè prendiamo il ferro Del ferro non possiamo lamentarci Anche perché abbiamo bisogno Di un botto di ferro La mia domanda è A questo punto Dov'è L'altro mouse pointer Che mi avete detto esserci Io sarei anche curiosetto 25 pezzi di ferro Ti dirò Poteva andare peggio Poteva andare peggio 25 pezzi di ferro Li prendo molto volentieri Anche se sono morto 16 volte Allora A questo punto Ah devo andare di qua Perché continua Questo non posso prenderlo Perché è oro Vai in realtà Dovrei prenderlo Prendiamolo Prendiamolo Utilizzo il mio piccone di diamante Anche se non dovrei Che quasi è finito Per prendere Questi blocchi di ferro Ok e facciamoci altre torce Immediatamente Prima che succeda qualcosa Tipo instant Ok Ottimo Allora Ah anche qua è finito Ok allora Prendiamo Prendiamo il carbone Cioè male male Torno all'ingresso E con un po' di cobblestone Mi faccio un altro piccone Perché questo ormai è finito E ho bisogno di un piccone Per andare in giro Cioè non esiste che vado senza Orca vacca Allora Ho finito il piccone Allora Questo c'è ancora un po' di utilizzi Quindi utilizzeremo questo Per il momento E poi torniamo Orca vacca E questo cos'è la morte No Orca Puttazza Quanta gente ci sta qua Ma cos'era L'anticamera dell'inferno Muori un po' Uh smeraldi Questi servono Orca vacca se servono questi Ok quattro smeraldi Voilà Ora magari non sprechiamo troppo Il piccone di diamante Perché è l'unica nostra fonte di velocità In questo mondo Torniamo su Torniamo all'ingresso Se ce la faccio Ma dovrei Ok non vedo perché no C'è la scaletta qua pronta Questa è la whatsapp che vuole essere No 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 Infamelli No Non puoi colpirmi all'infinito Stupido bufetto Mori Ok Ecco pure il creep Quanti creeper Mortacci vostro Allora stiamo calmi Stiamo molto calmi per favore Facciamoci un piccone Ragazzi Allora scendere Non bisogna scendere Questo abbiamo capito Magari bisogna salire Magari La butto lì Belli calmini Uniamo le due spade Così ci abbiamo più materiale Ok no Non buttare le torce Che ti servono Calma Calma il sanguefretto Allora il creeper Potremmo lasciare lì In effetti scappiamo Scappiamo E Andiamo Non di qua Di là ci sono delle torce Di qua Di qua Non sembrano esserci torce Andiamo di qua Procede la cobblestone Ci sono anche dei creeper Va bene seguiamo i creeper Cioè per ora ci hanno portato morte e distruzione Ma magari Anche un po' di fortuna Potrebbero portarcelo Esplodi Dove vai Mori un po' Orca vacca Boom Ok Ora Di qui Ah 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 Ok E' quello l'ora Ma è un altro spawner di creeper No ma avete detto che erano di scheletri Qua sembra essere di creeper però Stiamo calmi Stiamo calmi per favore Tutti i calmini Cos'è? Giro giro tondo Cambia il mondo Cambia la terra La terra è piatta Stiamo calmi Allora Allora no Mi ha distrutto il ferro Non si fa così Non si fa Trovate il mana Stiamo calmi Sto delirando ragazzi Questo per farvi capire E' uno spawner di scheletro Però il loot delle ceste potrebbe in effetti essere molto utile C'è da capire C'è un attimino da capire Quasi fatto fuori uno stack di meloni però Vabbè E' per una buona causa E' per una buona causa Andiamo Let's go Via col picconissimo Velocissimo Dentro l'acqua Vai 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 No Attento a ste cose Allora tutto illuminato Quindi dovrebbe essere più semplice di prima Dove riuscire a piazzare un paio di torce qua dentro anche E' buonanotte Allora andiamo dal lato Andiamo dal lato come piace a noi Tranquillo E' cafonissimo proprio E' addirittura manca il doppio blocco Non mi colpire Riusciamo a mettere un po' di torce Non mi esplodere pure tu qui eh Uno spawner lasciamelo Che cacchio Non esplodere Ti dico di no No e' no Se ti dico di no e' no Eh Carca vacca Nooo Dove cacchio è uscito fuori questo Quanta gente all'improvviso E' pure il fantasma del natale passato questo eh Stai calmo Carca vacca E' qua bello Vai così Vai così No Vai Arco incantato Se non bastasse Ammazziamo i ragni Devo mettere una torcia là in fondo Prima che succeda qualcosa Vieni qua bello Ok Ok Torce 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 Non può non può spawnare più niente Siamo al sicuro signori Siamo al sicuro Perché ho la slowness? Ok mi è passata Era l'effetto dello schetto di prima immagino Allora abbiamo un diamante Del ferro che mi fa sempre comodo Delle mele d'oro E un libro Un libro certo Un disco Due dischi Del pane Che prenderò perché è cibo vero Che mi serve al momento Altre mele d'oro Delle stringhe non mi servono Le ossa non mi servono Nel senso vedevo un bordello a casa Ottimo Ottimo Già il fatto che ho battuto il pane Guarda sono contento Anche di diamanti Un diamante Vabbè sono contento E basta Questo è tutto ciò che c'è da esplodare qui Potenzialmente O sbaglio Ti dirò Potenzialmente si Comunque Eh carla Ma come ci torno a casa Ci torno ci torno No proprio Piccone di diamante alla mano E buonanotte Via 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 Ok ha colpito la gnatela Voglio riuscicare Quanti siete Vai via vai via Vai via Ok Signori per questo video è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Ci vediamo prossimamente Sul canale domani alle 7 Con il prossimo video Della serie alle 7 Iscrivetevi al secondo del fatto Vi chiedo sulla campbellina Per non perdermi nessun video Io vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti